Era una grande battaglia anche questa vinta, ringraziamo il comune di Pescara, ringraziamo il sindaco Alessandrini, l'assessore Diodati e i tecnici perché insomma ci hanno ascoltato, hanno ascoltato la nostra protesta decisa che ormai durava da sei anni ricordiamolo e oggi è una bella giornata perché ci hanno mostrato il progetto, ci sarà la ristrutturazione dello stadio adriatico saranno 90 posti compresi gli accompagnatori, moltissimi dei quali al coperto, sistemeranno le rampe, le renderanno a norma insomma davvero un gran bel lavoro, ci voleva perché c'era anche una questione di sicurezza oggi siamo davvero contenti perché era un diritto partecipare agli spettacoli e quindi è un sogno ormai inseguito da tanti anni io volevo ringraziare l'associazione Carrozzine Terminate e tutti i tifosi disabili che in qualche modo hanno davvero siamo qui oggi tutti quanti insieme perché eravamo decisi nel far passare questo messaggio perché non era un favore ma era un nostro sacrosanto diritto e oggi noi festeggiamo perché è una grandissima giornata, i lavori inizieranno immediatamente subito dopo il campionato speriamo che il campionato, che il Pescara vada in Serie A così inizieremo i lavori più tardi possibili però questa è la promessa, verranno immediatamente sistemati i lavori e iniziati i lavori in modo che all'inizio del campionato prossimo sarà tutto sistemato Hai sempre detto, hai sempre parlato di una battaglia di civiltà, una battaglia che avete vinto tutti insieme Ma assolutamente sì perché è assurdo e inconcepibile che una persona solo perché seduta in carrozzina non poteva assistere a uno spettacolo tra l'altro un diritto costituzionale, lo stabilisce la Convenzione ONU sui diritti delle persone insomma abbiamo ottenuto questo ma soprattutto una cosa molto importante è la sicurezza perché prima addirittura avevano costruito lo stadio senza via di fuga, qualcosa di aberrante, incredibile e quindi oggi siamo davvero soddisfatti e contenti Grazie 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 Grazie